Calai, Rocchetta, ma anche decreto salvabanche e rapporti tra istituzioni. Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, insieme alla sua giunta, parlava di tutto questo stamani, nella conferenza stampa di fine anno presso la residenza municipale, mentre a poco più di una decina di chilometri di distanza, presso l'ospedale comprensoriale di Branca, veniva inaugurata una nuova TAC, con una cerimonia alla quale non era stato invitato. E allora è inevitabile il riferimento a quello smacco, vissuto, ha detto, non come un'offesa personale, ma come l'ennesima disattenzione verso una comunità che non merita tale trattamento, visto che quell'ospedale è nato dalla fusione di due strutture, quella di Gualdo al pari di quella di Gubbio. L'affronto o dimenticanza, come nel frattempo a Branca la definiva il direttore dell'Asle legato, non si fermava qui. Al sindaco gualdese non è piaciuta nemmeno una delle ultime sedute di consiglio regionale, nella quale si è approvato un piano regionale dei trasporti, che di fatto, confermando il raddoppio della orte falconara su rotaia, apre alla possibilità di una variante passante per Sant'Egidio. È ora che la regione decida dove stare, ha detto, annunciando che nel 2016, dopo 30 anni di militanza nel Partito Democratico e nei suoi diretti predecessori, potrebbe non rinnovare la tessera come forma di protesta verso una politica che non si assume le responsabilità e dimentica troppo spesso Gualdo Tadino. Fin qui le questioni di rapporti istituzionali, ma la conferenza ha regalato molti altri spunti legati alla vita amministrativa. Presciutti ha difeso la posizione della giunta e della maggioranza sulla questione Rocchetta. Abbiamo dato un'opportunità a Gualdo dopo anni di tentennamenti, dicendo sì ad un progetto di rinnovo della concessione e ampliamento che porterà più lavoro e ricadute in città. Sì alla demolizione della stecca delle Calai, accelerando anche qui i tempi per la sua riapertura. Quindi sì a cantieri prossimi come quello della riqualificazione di Piazza Mazzini, che in superficie non sarà un parcheggio, ma sarà area giochi, area sosta per disabili. Un portale e-commerce cittadino per le aziende anche piccole che non sanno muoversi in internet. Un incubatore di impresa presso la vecchia stazione ferroviaria. E a marzo un forum in città, che richiamerà il gote europeo della programmazione sui fondi per l'ambiente. Un assistente sociale fisso e a tempo indeterminato dallo scorso 2 dicembre in pianta organica. E per la cultura, in attesa della mostra di Ligabue in primavera, un vernissage di più artisti dal 17 gennaio alla chiesa di San Francesco curato da Vittorio Sgarbi, con nomi importanti capaci di attrarre i vistatori da fuori città. Ogni assessore ha quindi indicato gli obiettivi raggiunti nel 2015 e quelli da centrare nel 2016. Dall'inaugurazione delle Teatro Otalia alla fine del cantiere Monina, dalla nuova isola ecologica alle sfide per rilanciare il dinamismo del centro storico. 12 mesi per realizzarle, con la promessa della Giunta di mettere tutto l'impegno possibile.